Si è conclusa ieri a Santa Giustina la stagione del tennis tavolo Ciesino, in concomitanza con la quinta prova provinciale individuale. La gara è anche stata l'occasione per premiare la squadra campione provinciale della stagione, il Colle Beato, e il team vincitore della Coppa Leonessa, il Salò. Sì, decisamente siamo partiti un po' in difficoltà, però non l'abbiamo mai mollato, grazie a tutta la squadra l'impegno ce l'abbiamo fatta. Un po' siamo migliorati noi, ci abbiamo creduto, un po' di allenamento, anzi tanto allenamento, è andata bene. Sì, abbiamo qualche ragazzo che viene da noi, si allena, siamo sempre alla ricerca comunque, Colle Beato, e ci puntiamo molto sui ragazzi. Beh, ringrazio tutta la società, il Presidente, tutti quelli che hanno reso possibile arrivare fino in fondo e conquistare e meritare questa Coppa. Diciamo che ci siamo divertiti, tenevamo molto alla vittoria della Coppa Leonessa e ci siamo riusciti. Sì, diciamo che c'è stato forse meno impegno da parte nostra. Diciamo che io per primo ho partecipato poco alla Coppa Leonessa, qui ci sono solo io ma in realtà siamo dieci tesserati. Hanno giocato i miei compagni di squadra e io sono andato poco per la verità, mentre la Coppa Leonessa ci siamo proprio impegnati a fondo per vincerla. Esatto, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato provinciale e quest'anno siamo riusciti per la Coppa Leonessa. Se riusciamo a fare due squadre, faremo tutte e due, vedremo di vincere tutte e due. Sì, ringrazio in particolare il nostro Presidente Rogozinski, Gianfranco e tutti i miei compagni di squadra con cui mi sono anche divertito a giocare. Diciamo che siamo più che altro divertiti, perché questa è la cosa più importante. Seguo una società abbastanza quotata, visto che veniamo da due anni campioni nazionali di tennis tavolo a livello nazionale. Quest'anno siamo arrivati all'ottavo posto, un bel appiazzamento, avendo avuto anche pochi partecipanti a causa della forza di stanza che c'è stato quest'anno nell'organizzazione, perché siamo andati alla Cava dei Tirreni, però tutto sommato sono contento. Stiamo già pianificando la stagione futura, sia nelle categorie Fittet a livello nazionale, ma anche a livello CSI. Cosa devo dire? Quest'anno è stata un'annata un po' tallenante, il fatto che abbiamo avuto buoni risultati in alcune categorie, alcuni atleti, qualche uno noi avevamo qualche aspettativa in più, però tutto sommato non possiamo lamentarci. Anche se abbiamo puntato, è un paio d'anni che stiamo puntando un po' con i giovani, anche se facciamo fatica, perché Montichiari, essendo una città abbastanza contante di attività sportive, è difficile fare entrare nella città questo tipo di sport. Però adesso abbiamo un progetto da sposare all'inizio settembre, adesso vediamo se i nuovi atleti, soprattutto nel settore giovenile, aumentano il nostro settore a questo. Allora, anzitutto vanno i genitori, perché i ragazzini, se non ci fossero stati i genitori, che li portavano ai vari tornei organizzati sia col CSI, anche con la federazione, era un po' difficile portare, perché noi come società ci manca ancora il sogno di avere un pulmino che li portiamo senza star lì a vincolare un po' i genitori, al sacrificio dalle domeniche o i sabati. Un ringraziamento va anche alla mia società, alla mia squadra, che io reputo una famiglia, perché in una concezione di sport una persona viene a giocare più in po', va a frequento sport, ma deve sentirsi in una grande famiglia e se ha dei problemi cercare di superare quei problemi insieme a altra gente per essere di aiuto. Ringrazio anzitutto anche il comitato del CSI, che soprattutto Stefano Marizzoni, che è un paio d'anni, si sta facendo proprio un bel impegno, un bel mazzo, scusate il termine, nel seguire, nel organizzare sia nel campionato squadra e anche il campionato di singola categoria, dagli uniori, dagli allievi, dai giovanissimi, perché poi si fa bello a dire, ma si è capaci di criticare tanto, ma quando c'è da fare i fatti sono sempre quelli, dunque ci vorrebbero persone come Stefano o anche altri che sono nel CSI, che lavorano dietro le quinte, che diano una mano anche per valorizzare lo sport qualunque, sia palavolo, calcio, ping-pong, il calcio barilla, chi ne ha, più ne ha, più ne mette, dimentico magari qualche sport, però è così. Se non ci fossero gente che si impegnano nel sociale, sacrificando soprattutto la loro famiglia, perché qualcuno è anche sposato, non ci sarebbero anche queste manifestazioni nelle domeniche, in cui tra virgolette le chiamiamo liberi. Ecco, un grazie veramente al comitato del CSI, soprattutto Stefano che segue il tennis tabolo e Emiliano Scalfi che quest'anno ha cominciato a conoscere da presidente del TT Montichiari, che è attivo 24 ore su 24 nello sport. Ecco, un grazie a loro e soprattutto grazie anche alle altre società sportive che con difficoltà, pur avendo pochi atleti, riescono a iscrivere nei vari campionati e le loro squadre, così ci permette di fare un campionato di divertimento durante l'arco dell'anno che va da inizio ottobre fino ad oggi che è maggio.